salve ragazzi ben ritrovati sul nostro canale dopo lo scorso episodio dove abbiamo trattato e introdotto espom questo oggi andremo nel vivo installando l'addoni nome assistant e andando a configurare tutte le parti necessari per poter creare i primi sensori o primi attuatori grazie proprio a questo strumento perciò rimanete incollati al video e ci vediamo immediatamente dopo la sigla il primo step che seguiremo sarà quello di installare l'add-on sul nostro hub domotico come vi stavo accennando quindi in questa prima parte tratteremo questo aspetto mentre poi successivamente andremo a caricare anche il firmware di espom sul d1 mini che vi abbiamo introdotto la precedente volta quindi iniziamo immediatamente dalla parte del lab andremo su impostazioni componenti aggiuntivi e andremo a fare una ricerca all'interno del dello store di espom allora in questo caso compare già direttamente infatti potete osservare che abbiamo addirittura tre ben tre versioni quella standard quella beta e quella per sviluppatori a noi ovviamente interesserà quella normale l'espom tradizionale nel caso in cui non dovesse comparirvi come opzione selezionabile allora a quel punto dovremo andare a ricercare il link del repository da fonti esterne quindi dall'interno di gtab per poterlo incopiare incollare all'interno dell'aggiunta degli archivi digitali quindi in questo caso uno farà una breve ricerca con tutte le varie guide che si possono trovare non è un problema si aggiungerà repository e si farà tranquillamente aggiungi però ricordiamo che con la versione attuale di Omasis tutto questo passaggio diventa comunque bypassato perché già è disponibile nativamente con l'ultima versione con l'ultima build quindi a questo punto andremo a cliccare su spon e andremo ad installare il tutto ora aspetteremo che verrà completata l'installazione poi dopo di che vi ricordiamo che andrà attivato l'avvio automatico e anche dimostrarlo all'interno della barra laterale sulla sinistra quindi ci rivediamo immediatamente terminato il processo bene l'installazione è completata quindi andremo a schiacciare avvio del componente come abbiamo detto si è c'è anche la possibilità di effettuare l'aggiornamento automatico mostrare nella barra laterale e quindi ci siamo ovviamente la risorsa che in questo momento sta consumando è elevata perché il componente aggiuntivo si sta appena avviando poi dopo si stabilizzerà e raggiungerà una percentuale molto più bassa ok finito questo passaggio ci richieremo quindi all'interno del menu a sinistra sulla voce di espon ed è qua già pronto virtualizzata all'interno del nostro hub in questo momento andremo ad aggiungere invece il nuovo dispositivo che sarà rappresentato dal d1 mini che adesso vi mostreremo per fare questo passaggio occorrerà collegarlo fisicamente all'interno dell'usb per poter caricare il firmware sul d1 mini quindi adesso faremo il passaggio su lui bene ragazzi ora andremo a installare il firmware sul d1 mini ovviamente perché espon per funzionare come abbiamo fatto vedere il primo episodio che tra l'altro vi lascio qua il link in descrizione a necessità di un d1 mini con il suo firmware nel frattempo ragazzi se il video vi è piaciuto vi chiedo di metterci un bel like e di iscrivervi al canale bene continuiamo allora prima di tutto andremo su espon new device qui ci chiederà se usare l'interfaccia web o proseguire direttamente con il wizard io vi consiglio comunque di proseguire con il wizard quindi continuo a questo punto dovremo dare un nome al nostro diciamo di uno mini il network name ovvero la vostra wireless e la vostra password ora compilo e ci rivediamo subito dopo ho compilato le informazioni allora che board abbiamo se avete usato e usate quella che vi abbiamo consigliato noi nel video precedente vi basterà selezionare l'espo 82 66 se no dovreste ovviamente scegliere l'opzione corretta quindi qua andiamo avanti a questo punto dovremo copiarci l'encryption key che comunque potrebbe poi in futuro servire e andiamo a cliccare su install prima di fare questa cosa qua ovviamente dobbiamo collegare la nostra di uno mini al raspberry e ora il mio collega vi farà vedere come fare quindi noi adesso qui nell'immagine che vedete alla mia sinistra abbiamo il raspberry questo è di uno mini quindi prendete un cavo usb andate a collegare usb al di uno mini ovviamente e l'altro capo del cavo lo andrete a collegare direttamente al raspberry possibilmente sulla porta nera quindi 2.0 non usb 3.0 quindi adesso il mio collega terminerà il collegamento ok una volta effettuato il collegamento a questo punto potremo far partire l'installazione quindi io procedo a far partire l'installazione qua appunto ci chiederà come avete collegato il vostro nel nostro caso il nostro di uno mini in maniera wireless ma è necessaria già un'installazione del firmware espon per usare questa opzione oppure direttamente nel computer dal quale state eseguendo questa guida che non è il nostro caso ma noi avremo abbiamo fatto appunto questo cioè l'abbiamo collegato al computer dove sta eseguendo la dashboard di espon quindi selezioniamo qua ci dice qual è che già ha trovato comunque dove è stato collegato il di uno mini in questo caso nell'usb 2 come vi dicevo prima clicchiamo e a questo punto partirà l'installazione ora attendiamo un attimo per vedere che cosa fa il sistema di fatto va a scaricarsi e compilare una serie di cose tra cui l'ide di arduino che abbiamo visto nella precedente puntata perché anche questa parte quindi anche questo firmware potrebbe essere caricato come abbiamo visto la scorsa volta tramite l'arduino ide questo espon fa tutto da solo quindi vi semplifica la vita però noi per quello che volevamo farvi vedere bene i concetti basici e fondamentali appunto di espon bene come potete vedere ha finito la compilazione adesso sta scrivendo e lo vedrete anche dal lampeggio della lucina lì il firmware appunto sul di uno mini ha terminato e adesso andrà a collegarsi al wifi che gli abbiamo precedente inviato qua sta facendo uno scan di tutti i wifi disponibili ok se è collegato noi abbiamo chiamato appunto questo di uno mini domotica per tutti questo è l'indirizzo ip assegnato al 179 e tolgo la telecamera così vedete meglio quindi questo è l'indirizzo ip che ci ha assegnato quindi noi volendo potremo collegarci direttamente al nostro di uno mini quindi una volta che qua avrà detto che il setup è stato compliato con successo possiamo cliccare in basso a destra non lo vedete perché ci sono io ma c'è lo stop quindi clicchiamo stop e a questo punto avremo appunto la nostra periferica online perché è collegata al nostro raspberry ma ma se voi decidete di alimentare gli uno mini anche senza raspberry quindi tramite un usb normale da un'altra parte lui in boot si collegherà al wireless che gli avete indicato e qua comunque apparirà online quindi noi possiamo configurarlo direttamente da qua questo perché perché ovviamente di uno mini così senza nulla attaccato non ha senso quindi adesso in uno dei prossimi progetti vi faremo vedere non so dei sensori ad esempio della qualità dell'aria piuttosto che delle stazioni meteo adesso ci dovete scrivere sempre nei commenti quale progetto volete che andiamo a sviluppare con il di uno mini e poi vedrete come sarà facile controllare tutto questo progetto tramite le configurazioni di espon quindi qua possiamo appunto andare a modificare o fare il download del file yam per poi andarlo a configurare per configurare il file yam per esempio basterà andare in edit e come vedete qua ci sono un po di informazioni un po di informazioni su appunto il dispositivo che abbiamo appena installato per esempio qua c'è la dichiarazione della delle password del wifi che potete anche mettere in chiaro io adesso le ho messe così per collegarsi appunto al wifi di casa qua c'è il suo hotspot che genera in automatico il di uno mini quindi ci si può collegare direttamente al di uno mini tramite questo sì da questa password piuttosto che andare a dichiarare un'altra serie di opzioni tipo il nostro di uno mini un esp 8266 quindi qua abbiamo inserito ovviamente anzi il compilatore ha già inserito in automatico questa cosa bene ragazzi questo era l'installazione di o massi sen della don di espon e il firmware direttamente sull'espon per arrivare a una configurazione di base da qui possiamo implementare i nostri progetti andando ovviamente a modificare poi questo file e andandolo a installare come potete vedere qua in alto abbiamo install ok quindi possiamo modificare questo file yam un po come facciamo per esempio per la nostra domotica di tutti i giorni con home assistant e appunto fare il deploy wireless quindi immaginate di aver installato questo di uno mini da qualche parte tipo fuori come stazione meteo noi vogliamo fare degli aggiornamenti lo possiamo fare comodamente da qua e spararla direttamente sulla stazione meteo che magari sta fuori l'importante che la stazione meteo ovviamente sia coperta dal segnale wireless bene ragazzi per quest per oggi è tutto la prossima volta ovviamente andremo a fare un piccolo progetto in espon e andremo a vedere più in dettaglio come utilizzare i file yam tra l'altro noi consigliamo di usare poi il broker mqtt quindi andremo a configurare il nostro espon per andare a scrivere direttamente i valori che leggerà sulla base del progetto che facciamo direttamente sulle mqtt e vedremo appunto tutti i passaggi necessari bene con questo è tutto io spero che vi sia piaciuto questa seconda puntata a espon ce ne saranno ovviamente anche altre vi invito a lasciarci un bel like a iscrivervi e se potete anche a sostenerci con una donazione oppure se volete potete anche abbonarvi potete vedere potete trovare la sezione abbonamenti poi tutte le diciamo i dettagli quindi abbonarvi al nostro canale o come sostenitore o per avere accesso a video esclusivi piuttosto che a video in anteprima io vi ringrazio vi saluto ciao ragazzi